FUSIONE Ferma la fusione Comunicazione vocale nativa Dopo aver esaminato ulteriormente l'armatura a Praetor Sembra che io possa accelerare il potenziamento del tuo arsenale Misurando la tua efficacia combattiva Ho aggiunto un modulo nel display del tuo casco Valutazione combattimento Partecipando ai combattimenti Sarei ricominciati con punti di potenziamento armi Sì, di quanti di sicurezza non sono aggirabili Sì, di quanti di sicurezza non sono aggirabili Va bene Micromissili Che abbiamo avuto all'attività per un'arma o una serra micromissili O un mirino, no Infrappiamo i micromissili Abbiamo questo Ambienti della fonderia Noi dobbiamo andare di qua, no? Un po' da tutte le parti Tutti i mici di sacco Perfetto Allora Continuiamo di qua Riuscire a fare qualcosa? Rilevato perdita di gas Accesso legato Perfetto Quello Ah Perfetto Quindi ci troveremo lui adesso Andiamo a scendere Direi di sì Andiamo di qua Tu cosa hai per noi? Ah, di venire direttamente il braccio Per Scanzionare Quello che ci deriva No Da qua arriviamo di là Con il suo braccio Possiamo spanzionare Qui Accesso confermato Perdita di gas Arrestata Ci ha aperto la porta di qua Attiviamo Allora Sicuramente fa vedere Il nemico Che abbiamo visto Nell'ologramma Da destra Perfetto Perfetto No ok unito di 4 distrutti perfetto abbiamo tutto al massimo possiamo andare dalle altre quindi se io salto di qua no perché da qua noi siamo arrivati siamo venuti qua che sono andati subito di là accesso ne vado con l'accesso a blocco qui ne abbiamo un altro no 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 siamo in magnetica gialla accesso a blocco eccolo quello no no le munizioni vediamo le corazze che c'erano qua è morto quello con lo scivolo da qua dietro è morto anche lui punto l'armo ottenuto qua sotto dove andiamo a finire qua non c'è niente la voce sploda qua niente andiamo un po' dietro eccolo qua non cadiamo di sotto se no poi attiviamolo che rendo nido siamo a 2 di 4 perfetto minaccia demoniaca ridotta del 50% eccolo se andiamo di qua dove vado a finire già lo so ritanto cato e muoio qua di la non c'è nulla io lì non lo so se c'è rio quindi ne dobbio riparto da qua abbiamo la tessera gialla lui vuole la tessera blu vediamo magari ho saltato qualcosa per qua sotto la prima quando siamo venuti qua alla fine per cosa abbiamo fatto tutto il giro per cosa possibile che non c'era nulla allora qua non c'è nulla e si esce qua la stradecchiosa qua non c'è niente niente e no alla fine si abbiamo fatto tutto quello che c'era qui c'è la porta che ci fa uscire dall'altro lato qua sotto c'è qualcosa no qua ci siamo andati si l'abbiamo attivato qui abbiamo preso la corazza qui abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere qui c'è il portale il vento che ci porta sopra questo c'è il blocco dell'area lì ci serve la chiave la tessera blu è blu attenzione temperatura del nucleo in aumento no ok no qui c'è l'accordo è che ci sono guardate consiglio cerco dell'assemble sui a pieni concentrazione e temizioni punto armo ottenuto quando si può andare quando c'è nulla qua sopra niente qua niente poi ci sono munizioni un po' di corazza attiviamo il nido un po' di corazza siamo a 3 di 4 perfetto minaccia demoniica ridotta del 75% scarichiamo i dati della mappa ottimo abbiamo la tessera blu grazie a tutti tessera blu Qui abbiamo l'ultimo nido da giustizia. Qui abbiamo l'ultimo nido da giustizia, qui abbiamo l'ultimo nido da giustizia. Qui abbiamo l'ultimo nido da giustizia. era quasi che ora la porta è bloccata ma pezzo di questa la salute la corazza ci ha fatto perdere attenzione la temperatura del nord sta raggiungendo livelli critici attiva la turbina di raffreddamento abbiamo ammazzato tutti che non ci può passare immaginavo uscita non ci vediamo ci sono scopo non ci vediamo ci vediamo per la cava non ho mai fatto non ho mai fatto se nemmeno ancora un'altra un'altra non ho mai fatto nemmeno in due no andate andiamo un po' di corazza qua sotto punto potenziamento arma ottenuto una sala di controllo primaria è stata attivata nei paraggi potrebbe essere Olivia andiamo un altro token per armatura anche eccola qua Olivia autorizzazione Olivia Pierce alfa 4 0 2 mi ha tagliato fuori dottor Hayden sta cercando di aprire il portale che colleghi il nostro muro allora in ogni caso non avresti potuto salvare quindi le ha attivato la torre di demoni dobbiamo fermare ora il sistema consentirà soltanto a Olivia di ammullarlo dovremo disattivare manualmente la torre Argent dalla superficie di ammullarlo di ammullarlo grazie a tutti grazie a tutti